Grazie di questo imposto, grazie, 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 allora, ciao, ciao, grazie, allora, ospite di Torno Sabato è zero, Mayra Orfei, grande! Ma che sono questi leocorni? Non ho mai capito i leocorni? Ma sono animali mitologici! Ah, ma che sono tipo lippocrifo, lippobaudo, sta roba? Bravo, 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 però il leocorno ha un corpo lungo così. Davanti? Davanti. Ah, vabbè, ma quello è il lippofranco, ma ho capito chi è.